Eccomi, buonasera, buonasera a tutti e a tutte, coloro che si stanno collegando con questa serata un po' speciale, un po' speciale perché io il circolo dei lettori di Torino me lo ricordo molto bene dal vivo, di solito ero lì in una sala bellissima, in un palazzo antico, vi incontravo tutti, vi vedevo, vi guardavo negli occhi e dobbiamo tutti adattarci in questo periodo a degli incontri molto, molto diversi. Questa modalità virtuale non è la mia favorita, preferirei di gran lunga fare la vita che facevo, ma questo vale per tutti voi e ci sono persone che stanno molto peggio, quindi non ci lamentiamo. Siamo qui stasera per parlare del mio nuovissimo libro Oriente e Occidente, uscito da Einaudi, libro che tra l'altro inaugura una nuova collana, una collana che si basa proprio su queste dicotomie, opposizioni, binomidi di concetti che vediamo come dei concetti antagonisti o alternativi. Insomma, Oriente e Occidente gli abbiamo aggiunto un sottotitolo, massa e individuo. Dunque, fatemi fare prima di tutto una precisazione. Questo non è un libro scritto durante il coronavirus, non è un instant book nato per raccontare come l'Oriente e l'Occidente si confrontano durante questa pandemia, anche se alla fine c'è un capitolo intitolato Germi e civiltà, dove tutto quello che ho raccontato nel resto del libro può anche servire a capire se da questa sfida, da questo test drammatico, tragico che è la pandemia, usciranno anche dei vincitori e dei perdenti, se questo sia in qualche modo un esame a cui vengono sottoposte intere nazioni, comunità o addirittura civiltà. Però questa è solo la conclusione del libro. Il resto del libro ha avuto una gestazione lunghissima, è un libro che raccoglie esperienze di vita che da almeno 20 anni mi hanno portato, anzi 30 anni, dall'Europa all'Asia, agli Stati Uniti, avanti e indietro, con periodi di vita vissuta, cinque anni a Pechino e soprattutto però questo è un libro di tante letture, è un libro fatto anche di libri che raccoglie e estrae dalle biblioteche, come questa che ho qua dietro, tutto ciò che ha influenzato la nostra visione dell'Oriente e quindi il modo in cui ci siamo sempre paragonati all'altro, l'altro per eccellenza, l'altro per definizione, per noi è sempre stato l'Oriente. Ecco, quindi vengo anche proprio all'architettura del libro, il modo in cui questo libro è organizzato è un viaggio nella storia, ma nella storia molto antica, perché è quella che sta tornando a contare oggi più che mai. Noi abbiamo ancora nella testa i ricordi di questi ultimi tre o quattro secoli in cui siamo stati più forti e quindi siamo stati conquistatori dell'Oriente, talvolta, non necessariamente noi italiani, ma gli inglesi, prima i francesi, gli olandesi, gli spagnoli, i portoghesi, siamo andati a conquistare, ad avere delle colonie. Abbiamo avuto un impatto sulle civiltà orientali molto forti, ma questo è soltanto un capitolo della storia relativamente breve, molto molto recente. La mia è una storia più lunga, molto più lunga. Come minimo 2.600 anni di storia, è da lì che parte il libro. Adesso vi racconterò anche un po', ho una mezz'oretta, poi ascolterò le vostre domande, vi racconto come l'ho organizzato, perché questa dicotomia Oriente-Occidente ci insegue almeno dagli albori della civiltà greca. La storia dell'Oriente è molto più antica della civiltà greca, loro esistevano già in quanto civiltà, in quanto cultura. I cinesi retrodatano la propria civiltà 4.500 anni fa. Quindi pensate come siamo giovani noi, noi che siamo abituati a considerarci gli eredi di una civiltà molto antica, in realtà siamo dei bambini in confronto. faccio una parentesi perché prima mi è venuto in mente, avevo abitato dietro di me la libreria, sono sempre stato un divoratore di libri e ho sparpagliato libri veri, fisici, in carne e ossa, in carta, in giro per il mondo. Voglio aggiungere che alcuni degli autori che mi hanno influenzato di più. In questo libro è bene citarli alcuni. L'elenco completo lo trovate alla fine. Io di solito non faccio queste cose qui, non sono un accademico, quindi la bibliografia è una cosa che non uso. Invece questa volta sì. Alla fine del libro troverete un lungo elenco di tutte e tutte le letture che ho spremuto per darvi quest'opera qui. Però ne voglio citare subito alcuni. Tre grandi nomi italiani. Giuseppe Tucci, grande orientalista, soprattutto studioso della filosofia indiana. Fosco Maraini, il padre di Dacia Maraini, grande esploratore, raccontatore, dal Tibet al Giappone, soprattutto sul Giappone, io l'ho usato in questo caso, e Tiziano Terzani, naturalmente. Grande, grande maestro. Prima c'erano stati Marco Polo e Matteo Ricci, ma di quelli parlerò raccontandovi i capitoli. C'è un altro nome italiano, però in questo caso una donna, che si affaccerà subito in uno dei primi capitoli del libro. Questa è una studiosa del mondo classico, Lidia Storoni-Mazzolani, che ha scritto delle pagine per me illuminanti sulla figura di Elena di Troia, che c'entra molto nel confronto tra Oriente e Occidente. Ci verrò. E se dimentico qualcosa poi leggerete il libro. Tra gli autori stranieri tantissimi, io avendo avuto un'infanzia e un'educazione francofona, leggo molto in francese. Forse il più importante di tutti per me da quel mondo è stato il sinologo René Etionble, in particolare sulla nostra scoperta della Cina. Inglesi e anglo-americani, naturalmente tanti, tra questi un arabo-libanese che però insegnava qui a New York. Io vi sto parlando da casa mia di New York, dove siamo tutti bloccati da qualche parte a New York. Qui vicino alla Columbia University insegnò un certo Edward Said, autore di Orientalismo, che ho utilizzato e citato. Poi ci sono grandi sinologi, ne cito solo uno, Jonathan Spence. Va bene, finita la parte in cui volevo accennare ad alcuni dei debiti enormi, enormi di gratitudine verso grandi autori che troverete spremuti in questo video. Dunque, da dove comincio? Comincio dall'inizio. Il capitolo primo l'ho intitolato l'antefatto, noi greci, loro persiani. Un antefatto all'antefatto è questo. Guardate, Oriente-Occidente, questo binomio in realtà non è un binomio equilibrato, è profondamente squilibrato. Un filo conduttore che attraversa tutto il mio libro è la sproporzione. Non siamo uguali. L'Asia è immensamente più grande di noi, in tutti i sensi. Territoriale, l'Europa è una minuscola propaggine della massa terrestre e eurasiatica, il che ha anche significato che quella presenza dell'Asia incombe su di noi, come un gigante che sentiamo premere da sempre alle nostre frontiere. Superiorità demografica, c'è sempre stato molto più popolazione là che non in Europa e di conseguenza migrazioni, invasioni. Certo che negli ultimi secoli siamo stati noi ad andare a invaderli, ma per un periodo storico molto, ma molto più lungo le invasioni erano da est a ovest. In particolare le grandi orde, gli unni, i mongoli, insomma popoli che venivano di solito dall'estremo oriente. Pensate, perfino gli ottomani sono in realtà all'origine, l'impero turco, all'origine una tribù che veniva di ceppo mongolico, quindi veniva al nord della Cina. Quindi sproporzione di dimensioni, di popolazione, di storia, visto che loro sono molto più antichi di noi. Quindi questo è importante tenerlo presente ed è il cuore già del primo capitolo, la partenza, noi greci, loro persiani. Ecco, la Persia è il primo oriente che incombe su di noi, in un confronto, scontro di civiltà, durissimo, con delle guerre, le guerre tra greci e persiani, che ci racconta il primo storico, il primo fondatore della disciplina storica Erodoto. E vedete, rileggere quelle pagine, quella vicenda è fondamentale perché è lì che noi cominciamo a formare in embrione quest'idea che è quella anche del sottotitolo del mio libro, Massa e individuo. L'idea che in Asia sono tantissimi, sono delle masse sterminate, sono soggetti, sono sudditi di grandi, potentissimi imperatori, semidei, mentre di qua noi siamo molto meno numerosi, ma siamo degli individui, abbiamo dei caratteri individuali molto forti e alla fine possiamo anche prevalere proprio grazie a questa nostra natura. Vedete, quest'idea che si forma in embrione quando la Grecia si crea un'immagine di se stessa nei confronti della Persia ci ha accompagnato per 2.500 anni, fino a oggi. La riformulata in maniera molto sofisticata un certo Karl Marx, dispotismo orientale. E poi tanti altri pensatori dell'Ottocento e dopo, Wittfogel, Sombart, Max Weber, che hanno teorizzato con vari termini quest'idea che là ci sono dei regimi autoritari, dispotici. E quindi questo è importante. Il primo capitolo è come i greci cominciano ad avere un'idea di Oriente. Devo correre, quindi vi do solo degli spunti per avere un'idea di com'è articolato il libro. Il capitolo secondo si intitola 2000 anni per scoprirsi a vicenda, perché, come ho detto prima, abbiamo cominciato dalla Persia, che era così vicina, ma c'era un altro Oriente, Alessandro Magno sapeva già che dietro la Persia c'era l'India, è andato a conquistarla, è stata una conquista brevissima e poi quell'avventura che già però conteneva un mito dell'Oriente, il nodo di Gordio. L'avventura di Alessandro Magno è importantissima, di nuovo perché influenzerà fino a Napoleone. Napoleone vorrà andare a conquistare l'Asia sulle orme di Alessandro Magno. Ci abbiamo messo molto a scoprire l'Estremo Oriente. Vedete, è una cosa interessante perché le vie della seta in realtà erano già molto trafficate mille anni prima che nascesse Roma, mille anni prima. Già c'erano questi flussi lungo le vie della seta, dalla Cina fino alle rive del Mediterraneo. Non solo di merci, le vie della seta facevano transitare naturalmente mercanti, tessuti pregiati, spezie, ma anche idee, valori, religioni. Il buddismo si affaccia sulle rive del Mediterraneo cinque secoli prima del cristianesimo. Arriva il buddismo in Siria. Però per molto tempo sulla Cina avevamo delle idee vaghe, per lo più mitologiche. È molto interessante vedere cosa sapevamo dei cinesi. Avevamo però, per esempio, i romani non avevano una chiara conoscenza dell'esistenza della Cina e tuttavia si svenavano con dei deficit, oggi diremmo deficit della bilancia commerciale dell'antica Roma per comprare sete cinesi. Le dame, le matrone romane si rovinavano, spendevano di tutto per comprare queste sete cinesi. E questo fa sì che per lungo tempo, pur senza avere un'idea chiara dell'esistenza della Cina, noi la chiamiamo con dei nomi che sono derivati dalla seta. I cinesi li chiamiamo i setaioli, questo popolo misterioso che sta laggiù lontanissimo. Ma in mezzo ci sono tanti intermediari. Noi non entriamo in contatto diretto con loro perché ci sono in mezzo i persiani, gli indiani e tanti altri che lucrano su questi commerci. 2000 anni per scoprirsi, 2000 anni pieni di sorprese perché tra i primi scopritori io mi soffermo molto su Marco Polo, a cui dobbiamo tantissimo. Marco Polo è stato talmente un precursore nella comprensione di quanto la Cina era più avanzata di noi, stiamo parlando della fine del XIII secolo, talmente un precursore che non l'hanno creduto. Voi sapete che il titolo del suo libro Il Milione, in cui racconta la sua vita alla corte, i suoi viaggi e la sua vita alla corte del Kublai Khan, il titolo Il Milione è un titolo beffardo che gli viene dato in senso spregiativo, è un contaballe, milione, cioè troppo grosse queste cifre perché lui dice della Cina tutte queste ricchezze. Qui gli europei non possono credere, non possono accettare di essere talmente inferiori. Eppure una qualche consapevolezza della nostra inferiorità, l'avevamo già avuta nel Medioevo, le influenze orientali per esempio interessantissime nella poesia, nell'arte medievale, ci sono molti miti che continuano ad arrivarci dall'Oriente. Faccio un salto indietro, anzi due. Ricordiamoci sempre quando cerchiamo di capire quanto l'Oriente sia stato importante per noi che il cristianesimo, noi ci definiamo a volte noi italiani eredi di una civiltà greco-romana, oppure diciamo di appartenere a una tradizione giudaico-cristiana. Eh ma non sono la stessa cosa, la tradizione giudaico-cristiana è asiatica. Per i romani, quando il cristianesimo comincia ad affacciarsi a Roma, è una religione orientale, viene dall'Asia minore ed è piena, intrisa di influenze orientaleggianti, tra cui lo zoroastrismo persiano. Bene, altro intermezzo, prima di tornare su Marco Polo e continuare il viaggio dei 2000 anni per scoprirci a vicenda, una vicenda gustosissima che racconto è quella del nostro primo vero spionaggio industriale ai danni della Cina, quando loro erano molto più avanzati di noi e questa benedetta seta che costava così cara e noi ci rovinavamo per comprarla, finché dei monaci nestoriani, che è una variante del cristianesimo soprattutto forte in Siria, che poi arriverà a impiantarsi in Cina, i monaci nestoriani riescono a rubare dei bacchi da seta e portarli dalla Cina all'imperatore di Bisanzio e questa è per noi una tecnologia importantissima, finalmente diventiamo capaci di produrre la seta anziché doverla sempre comprare dai cinesi. Dicevo di Marco Polo, dopo di lui l'altro italiano importantissimo in questa scoperta progressiva della Cina è Matteo Ricci, scusate ho visto squillare un telefono, voglio solo capire che non siate voi che mi chiamate, qualcuno da Torino che mi dice che è caduta la linea. Matteo Ricci, gesuita, vedete la storia di Matteo Ricci Ricci, mai abbastanza studiata, divulgata e apprezzata in Italia, è fondamentale perché contiene così tante storie al suo interno, dunque lui va per evangelizzare i cinesi, per portargli il cristianesimo, pur sapendo che il cristianesimo c'era già arrivato con i nestoriani per l'appunto. Ma al tempo stesso è accaduta un'altra novità sconvolgente tra Oriente e Occidente, cioè l'Islam, a quell'epoca, qui siamo nel 1500, a quell'epoca Oriente vuol dire prima di tutto potenze islamiche, da cui il cristianesimo si sente minacciato e allora una delle ragioni dietro le missioni dei tanti gesuiti che partono verso la Cina è anche di andare a cercare alleati contro l'Islam e questo è un tema che rimarrà importante molto a lungo. L'altra ragione per cui Matteo Ricci è così importante è che lui non è solo un religioso, è uno scienziato, un grande matematico, arriva in Cina e rimane sconvolto da quanto siano avanzati in termini di conoscenze scientifiche e si instaura un dialogo tra lui e le classi dirigenti cinesi, una specie di gara di competizione intellettuale a chi ne sa di più. Questa è una storia molto importante perché è un altro momento in cui qualcuno di noi apre gli occhi su una Cina che è molto avanzata. Corro, devo galoppare, ma in questi 2000 anni per scoprirsi a vicenda ci sta uno dei momenti in cui anche la rappresentazione politica che ci facciamo dell'Estremo Oriente cambia quando gli illuministi, filosofi francesi, Voltaire Montesquieu diventano degli ammiratori della Cina, si esaltano di fronte a un grande impero cinese, l'impero celeste che seleziona le sue classi dirigenti, i mandarini, la burocrazia imperiali, i dirigenti dell'amministrazione pubblica con esami, concorsi pubblici, esami meritocratici e quindi Voltaire Montesquieu dicono ma questa Cina è molto più avanzata dell'Europa dove le cariche vengono ereditate da rampolli della nobiltà oppure le cariche dell'alta amministrazione nell'ancien regime vengono vendute al migliore offerente. Il terzo capitolo non arriverò neanche a riassumerveli tutti, è quello che ho intitolato L'Asia è femmina perché la questione dei sessi, del ruolo della donna, della sensualità, dell'erotismo è un altro dei temi che da duemila anni accompagnano i rapporti tra Oriente e Occidente. Tenete conto che anche dovevo qui rendere il mio tributo, il mio debito di riconoscenza verso Lidia Storoni Mazzolani, ecco perché è importante Elena di Troia, perché secondo questa grande studiosa italiana di Omero Elena di Troia viene rapita ma in realtà è consenziente e tante cose secondo lei lo dimostrano nell'Iliade ed è un caso quindi di una donna che lascia l'Occidente per andare in Oriente perché Troia è in Asia minore, è in Turchia e una donna che in qualche modo libera la sua sensualità. Vedete questo tema per molto tempo è un tratto distintivo dell'Oriente. Pensate allo shock dell'Inghilterra vittoriana quando conquista l'India, colonizza l'India e scopre il Kamasutra e scopre queste statue nei templi induisti di divinità femminili che rappresentano un'esplosione di erotismo rispetto alla sessuofobia dell'Inghilterra vittoriana e puritana. Ma prima ancora pensate anche a tutto il mito delle Mille e Una Notte che sono un capolavoro anche dell'erotismo che ci viene dal mondo arabo che è orientale ovviamente ma anche il mondo arabo le aveva presi a prestito da antiche leggende indiane. Quindi ecco per quanto tempo noi abbiamo avuto in realtà in Asia un luogo dove i rapporti tra i sessi erano più liberi, non c'era il senso del peccato, cosa che scandalizza, ecco una delle cose che scandalizzano i missionari gesuiti quando arrivano là. Ma risalendo ancora più indietro forse la prima intuizione di questa è nel culto dionisiaco, qui cito una grande autrice, una letterata americana che di origini italiane, italo-americana, Camille Paglia, una femminista, una femminista storica di quelle che hanno fatto scalpore a suo tempo e lei è una di quelle che hanno scritto delle pagine illuminanti sul culto di Dioniso che nel panteon greco è una divinità chiaramente venuta dall'Asia, venuta dall'Oriente. Dioniso rappresenta lo scatenamento dei sensi e alcune delle festività dionisiache, i baccanali perché Dioniso a Roma diventa bacco, rimangono in certe tradizioni mediterranee di danze per lo più femminili, danze orgiastiche con l'aiuto di alcol e droghe. Insomma questa è l'idea di un Oriente dove l'impero dei sensi. Poi tutto questo cambierà moltissimo ecco e arrivo anche a spiegare come il ruolo della donna abbia avuto anche là delle evoluzioni o in evoluzioni. Di corsa ho un capitolo sull'orientalismo coloniale, cioè come quando ci siamo sentiti sufficientemente superiori da andare a aggredirli, a conquistarli, abbiamo anche cominciato una conquista culturale, nel senso che guardate i più grandi musei di arte orientale dell'Occidente, tanto per citarne qualcuno, il Louvre di Parigi e il British Museum, devono i loro tesori d'arte orientale a quello sforzo immane che conducono Napoleone da una parte, gli inglesi dall'altra, di conquista, colonizzazione, ma anche conquista scientifica, perché quando per esempio Napoleone parte per la spedizione d'Egitto, che non è Asia, e Africa, ma per noi è sempre stata anche una porta verso l'Oriente, per via già dei legami con le civiltà mesopotamiche. Insomma Napoleone, che dall'Egitto vorrebbe arrivare fino in India, il suo obiettivo è scalzare e scardinare l'impero britannico, Napoleone spedisce anche una quantità incredibile di scienziati, di studiosi, comincia un'opera di catalogazione di tutto il patrimonio archeologico-artistico di queste civiltà che noi andiamo a invadere. È allora che si formano alcuni capisaldi della nostra concezione dell'Oriente, è importantissimo l'orientalismo coloniale, che poi avrà anche delle ricadute nella letteratura. La nostra letteratura dell'Ottocento è piena di capolavori dove l'Oriente appare di continuo, la musica si innamorerà a cercare influenze orientaleggianti, la pittura. Poi c'è il capitolo in cui vi racconto l'Occidentalismo, loro, quando loro si rassegnano a dover copiare i barbari. Gli invasori, che siamo noi, hanno ottenuto una superiorità militare, economica ed ecco che è l'Oriente che improvvisamente ha dei complessi di inferiorità e comincia a studiarci. Uno degli episodi più importanti è la rivoluzione restaurazione, la chiamano loro, la chiamano gli storici, ma sarebbe piuttosto la rivoluzione Meiji. Nella seconda metà dell'Ottocento il Giappone è il paese che riesce meglio in quest'impresa, copia tante cose, dalle armi all'organizzazione amministrativa dello Stato, all'industria, le copia dalla Prussia e dall'Inghilterra, le adatta al suo patrimonio di valori, alla sua storia e diventa la prima potenza asiatica che di nuovo è in grado di minacciare l'Occidente, la supremazia occidentale. Sono quasi alla fine della mia mezz'ora, quindi vi cito appena i tanti capitoli che ho lasciato fuori, il buddismo fra noi, e questa è una storia molto importante che comincia in maniera esplosiva nell'Ottocento con il romanticismo tedesco. Lì c'è una fase in cui noi siamo più ricchi e più potenti militarmente, però in piena rivoluzione industriale cominciamo ad avere dei dubbi su noi stessi, cominciamo ad avere una reazione di rigetto contro il materialismo dell'Occidente e andiamo a cercare in Oriente la spiritualità. Il romanticismo tedesco è il movimento più importante in questo senso, abbiamo poi da Richard Wagner, musicista che diventa buddista, fino a Schopenhauer e via via. Poi gli eredi saranno Herman Hesse con il Siddhartha, fino ai Beatles, in fondo il viaggio dei Beatles in India che è uno degli episodi chiave, quello che per esempio fa sì che io pratico lo yoga, io cominciai a fare yoga che avevo 15 anni nel 1970, il viaggio dei Beatles in India. C'india, la resa dei conti con l'Islam, questo è un capitolo che dedico all'India, alla sua storia, ma anche al suo presente. Il Giappone, il Tao e il Te, il fascino sottile del Giappone che noi tendiamo a sottovalutare ma è un paese importantissimo. infine c'è un capitolo tutto tutto sullo yoga dove il mio grande maestro di letture è Mircea Eliade, un romeno che andò a scoprire e raccontarci l'India negli anni 20, negli anni 30 del secolo scorso. E concludo, e adesso vengo a rispondervi, concludo sulle pandemie perché sono sempre state importantissime nella storia tra noi e loro, pandemie globali ce ne sono state, le più importanti gli storici le contano almeno a tre, la pandemia Antonina che probabilmente accelerò la fine dell'impero romano occidente, quella del boccaccio, quella della fine del 300 che provocò anche degli sconvolgimenti sociali molto importanti anche nel nord Europa e infine la spagnola che coincide con l'ultimo anno della prima guerra mondiale. Queste sono considerate le tre maggiori pandemie globali ma in mezzo ce ne erano state molte altre e le rievoco perché quasi tutte sono nate in Cina o comunque in Oriente, non peraltro ma perché là c'è la maggiore concentrazione di esseri umani e animali e quindi il laboratorio ideale per i contagi incrociati, poi perché nella storia delle pandemie sono molto importanti i vettori dei virus o dei batteri che sono gli invasori e molto spesso sono state orde che venivano dall'estremo oriente o dall'Asia centrale verso di noi e infine perché le pandemie, poi verrò a rispondere anche, vedo già la chat molto molto affollata di domande, sì la pandemia che stiamo vivendo come tutte le altre è anche un test di civiltà, una di quelle sfide, di quegli esami terrificanti da cui probabilmente usciranno dei vincitori e dei perdenti e noi già stiamo discutendo di questa tremenda sfida come in termini di Oriente e Occidente, cioè fin dall'inizio abbiamo cominciato a chiederci prima di tutto quali erano le colpe della Cina e poi chi ne uscirà vincitore e chi perdente, chi da questa prova così dura, così dolorosa avrà dimostrato una maggiore capacità di resistenza e resilienza, una maggiore coesione, compattezza, quali sistemi, quali civiltà verranno promosse all'esame e quali invece bocciate perché molto spesso in passato le pandemie se non hanno decretato addirittura la morte di intere civiltà ed è accaduto anche questo, hanno comunque stremato, indebolito alcuni imperi mentre ne hanno alla lunga rafforzato altri e questo è il capitolo finale, quello in cui io non esprimo un verdetto sarebbe presuntuoso e prematuro, presuntuoso e prematuro, i conti con la pandemia del coronavirus si faranno tra qualche anno e qualche volta ci vogliono addirittura decenni per riuscire a capire esattamente che cosa è successo, pensate che ancora della spagnola del 1918 abbiamo delle idee imprecise, però già ci coglie il dubbio che questa pandemia acceleri delle tendenze preesistenti, c'erano già molti segnali che stavamo andando verso un secolo asiatico e che in certo senso il ritorno alla normalità, nei 2600 anni di storia che io vi racconto quasi sempre l'Asia è stata il centro della storia e noi eravamo la periferia, sono solo questi ultimi 3 o 4 secoli che ci hanno dato un orgoglio, un'autostima enorme e ci siamo convinti di essere noi il centro del mondo, ma nella maggior parte della storia umana non era così e quindi sì abbiamo questa sensazione che la pandemia possa accelerare lo spostamento nei rapporti di forze a loro vantaggio. Una delle esortazioni su cui concludo il libro è ricordiamoci sempre che di oriente non ce n'è uno solo, quindi il secolo asiatico non deve essere necessariamente il secolo cinese, intorno alla Cina ci sono altri paesi che rappresentano dei modelli diversi e più la Cina diventa potente e prepotente, più i suoi vicini si allarmano e cercano di correre ai ripari, quindi dobbiamo guardare con molta attenzione anche le dinamiche interne all'Asia, non pensare che ce n'è una sola. Bene, ho parlato per mezz'ora, sono le 21.36, credo che in teoria ne abbiamo ancora un quarto d'ora e quindi comincio a guardare le vostre domande. Anastasia, non crede che nell'affrontare la pandemia che il sistema orientale abbia dimostrato una capacità di risposta migliore rispetto all'Occidente? Quanto pesa la nostra cultura dei diritti nell'incapacità di dare forza alle decisioni collettive? Sì, questo è un tema che affronto nel libro e lo affronto evitando di esaltare il modello autoritario cinese, sul quale ho enormi riserve. Mi interessano dei modelli alternativi come il Giappone, il Giappone con 125 milioni di abitanti ha avuto solo 800 morti di coronavirus, una cifra minuscola rispetto al resto del mondo, ma soprattutto alle nazioni occidentali. Non ha mai adottato dei lockdown così severi come quelli che avete avuto in Italia. Perché ci sono delle abitudini, dei riflessi di disciplina collettiva, di rispetto delle regole che hanno molto a che vedere con Confucio. Quando dico che la storia che racconto in Oriente e Occidente comincia a 2600 anni fa, quella è anche l'epoca di Confucio. Confucio è un gigante della storia, del pensiero che influenza tuttora almeno due miliardi di persone, dovremmo studiarlo. Non è normale che un italiano di buona cultura sappia tante cose che sono su Macchiarelli e zero su Confucio. Il confucianesimo mette i doveri prima dei diritti individuali, i doveri verso la comunità, verso gli altri, verso la collettività. C'è un'etica della responsabilità, prima ancora che dei diritti e questo ha aiutato alcune nazioni a rispondere. Questo certamente, per esempio, guardate banalmente il fatto che l'uso della mascherina in certi paesi d'Estremo Oriente è prima di tutto un gesto di cortesia verso gli altri. Metto la mascherina da tanti anni, molto prima di questa pandemia, non per proteggere me stesso, ma prima ancora per non starnutire addosso al mio vicino. È un gesto di riguardo e questo fa parte di una cultura confuciana. L'altra cosa che mi colpisce, questi paesi che stanno attorno alla Cina hanno avuto delle reazioni più efficaci perché si preparavano dal 2003, essendo stati traumatizzati dalla SARS nel 2003. Però dopo il 2003 di pandemie così gravi non ce ne sono più state. Vuol dire che loro hanno saputo tenere duro per 17 anni ad attrezzarsi e prepararsi contro un pericolo che non veniva. Ecco, questo dice qualcosa che loro hanno e che a noi manca. Quali democrazie occidentali sanno tenere duro, nonostante i cambi di governi, i cambi di maggioranza, le elezioni, però tenere duro su un piano per 17 anni di fila. Questo è un po' forse anche il risultato del senso della storia che hanno loro. Irene, perché la cultura e la storia orientale non sono parte della cultura generale e sono ancora così poco insegnate nelle nostre scuole e università? Giustissimo, questo è un grave errore, è una carenza della nostra formazione. In questo loro sono meglio di noi, loro studiano l'Occidente più di quanto noi studiamo l'Oriente. Questo è anche un portato degli ultimi tre secoli in cui hanno avuto per la prima volta nella loro storia un complesso di inferiorità. Però non c'è dubbio che un cinese medio, ancora di più un giapponese, un coreano medio, sa molto più della storia dell'Occidente di quanto noi sappiamo della loro e dobbiamo darci una mossa. Eleonora, se in che modo Tiziano Terzani ha saputo raccontare le differenze culturali tra Oriente e Occidente, in che modo è stato per lei un modello di riferimento? In tanti modi, Terzani era un giornalista, non era un sinologo, non era uno studioso, però ha scritto delle pagine illuminanti. Una delle cose che io ricordo di lui che mi hanno colpito fu il suo gesto autocritico, perché Terzani è stato uno dei reporter di guerra che seguirono la guerra del Vietnam. A un'epoca in cui tutta la sinistra occidentale, i giovani, il movimento giovanile in Europa, in America, tifava per i Vietcong, per i vietnamiti del nord e a un certo momento ci fu addirittura un innamoramento della sinistra occidentale per i Khmer rossi della Cambogia, che poi furono colpevoli di un genocidio, di un massacro del loro popolo. Terzani fu uno dei pochi di quella visibilità e di quel prestigio a scrivere mi sono sbagliato, ho preso un accantonato, ho preso un abbaglio. E questo fa parte anche delle sue qualità umane. Perché vedete, una cosa che mi colpisce, c'è un capitolo anche in cui parlo del Vietnam. Oggi lo stesso Vietnam ha voluto cancellare i ricordi della guerra. Quando io ero giovane, io ero adolescente, ero bambino quando comincia la guerra al Vietnam, ero adolescente quando le piazze di tutto l'Occidente erano piene di manifestazioni contro l'America e a favore del Vietnam. E per noi il Vietnam era il comunismo, il sogno del comunismo, molti di noi. E sottovalutammo moltissimo il ruolo del buddismo allora. Eppure c'erano dei, noi li chiamavamo bonzi, dei monaci buddhisti che si immolavano, si davano fuoco per protestare contro la guerra e contro gli americani. Oggi, se torniamo nel Vietnam, del comunismo è rimasto poco, della guerra non vogliono quasi più parlare, è il buddismo che ci affascina il Vietnam di oggi. Quello rimane. Antonella, l'Iliade è molto orientale, la filosofia greca si è incrociata con l'Oriente, certamente. L'importanza, sì sì, sono d'accordo con Antonella, la cultura latina, Seneca, Cicerone conoscevano alcuni testi del buddismo, in parte era un'influenza molto mediata, ma già i filosofi presocratici erano stati impregnati di influenze dall'Oriente. Maurizio, quanto pesa a un nomade globale come lei l'essere costretto a lavorare da fermo a causa del lockdown? Mi pesa moltissimo, l'ho detto, non mi piace fare piagnistei perché c'è chi sta molto peggio di noi, per tante ragioni, a cominciare da quelli che si sono ammalati e da tanti che hanno perso delle persone care, però non c'è dubbio che io fino a tre mesi fa facevo una vita che era tutto il contrario di questa e lo racconto un po' nell'introdurre la bibliografia finale, come sono dovuto passare dalla vita di nomade globale in cui media una volta al mese io ero su un aereo che mi portava in un altro continente, attraversavo un oceano, l'Atlantico, il Pacifico, mi portava o in Europa o in Asia e certo faccio una vita molto diversa, però mi ha consentito di mettere ordine in alcune delle biblioteche che mi circondano e di dare una stretta finale nella sintesi di tante letture che avevo accumulato nei decenni e di praticare lo yoga chiuso in casa da solo. Di solito facevo uno yoga di gruppo, adesso lo faccio da solo, alcune inconvenienti, alcuni svantaggi, a me piace lo yoga in gruppo, però ho fatto un bagno di umiltà nella lettura, nello studio di Mircea Eliade perché lo yoga è molto di più di quello che io riesco a praticare, è una finestra aperta sulla filosofia indiana, molto molto interessante, ho cercato di darvene qualche pillola di riassunto. Michele chiede, no, prima c'è Melania che chiede come si vive negli Stati Uniti da grande esperto della cultura orientale, io non sono un grande esperto della cultura orientale, vi ho detto che alla fine del mio libro troverete un elenco dettagliato e puntiglioso di tutti i miei debiti culturali con i veri grandi esperti della cultura orientale, io sono un viaggiatore, ho vissuto anche in Oriente abbastanza lungo, ho continuato a frequentarlo anche quando ero tornato negli Stati Uniti, ho una figlia che fa la ricercatrice alternandosi tra la California e l'India e anche lei mi ha aperto dei mondi nuovi, ma non sono un grande studioso, peraltro il fatto di stare negli Stati Uniti ha qualche vantaggio perché, ne cito due, ci sono qui negli Stati Uniti alcuni dei migliori think tank di studio e di analisi dell'Asia, grandi centri studi universitari, ma anche think tank come la Asia Society sulla Park Avenue qua a New York a 20 minuti a piedi da casa mia, quindi ci posso andare anche in lockdown, sì perché il lockdown americano è diverso dal vostro, non hanno mai chiuso i parchi, non ci hanno mai proibito di uscire di casa. E l'altro aspetto per cui oggi è un vantaggio vivere negli Stati Uniti è che purtroppo con la censura cinese, con tutte le limitazioni allo scambio di idee e di informazioni che Xi Jinping ha imposto e sono peggiorate rispetto agli anni in cui io vivevo in Cina, oggi è più facile trovare anche degli intellettuali cinesi, sì soprattutto cinesi, che parlano liberamente, che raccontano tante cose sul loro paese, sulla loro storia qui negli Stati Uniti che non andando in Cina. Però poi ci sono invece tante altre sedi prestigiose di studi orientalistici anche in Europa e in Asia. Michele chiede se ci sono dei punti d'incontro tra le tante differenze tra la cultura orientale e quella occidentale. Continuamente, questo libro è esattamente il racconto di tutte le volte che ci siamo incontrati, perché non c'è solo lo scontro di civiltà, c'è stata fusione e influenza reciproca, noi abbiamo assorbito tantissimo, siamo impregnati. Guardate, comincio proprio nell'introduzione, uno dei primi aneddoti che ricordo è un segnale per esempio della penetrazione di influenze buddiste nell'Occidente di oggi. È molto strano, vedete, perché il proselitismo non è una religione che è particolarmente dedita al proselitismo, infatti l'Oriente estremo e anche l'India hanno sempre avuto dei rapporti un po' difficili con i grandi monoteismi che per loro venivano da Occidente, anche se uno di quelli o due erano orientali per noi, cioè cristianesimo e islam, le hanno sempre vissute come delle religioni più aggressive che volevano convertire tutti. L'induismo non vuole convertire nessuno, anzi guarda con molto sospetto a qualcuno che pretenda di convertirsi all'induismo. Il buddismo ha fatto proseliti ovviamente, è nato in India ma poi ha conquistato la Cina, il Vietnam, la Corea, il Giappone, la Birmania, però è una religione meno espansionista e meno aggressiva rispetto ai monoteismi e tuttavia oggi ci ha affascinato, ci ha sedotto. Dai tempi del romanticismo tedesco non abbiamo più smesso di interrogarci sul buddismo e oggi in America mi colpisce vedere quanto è presente in mezzo a noi l'influenza del buddismo. Paolo mi chiede perché la nostra cultura affascina così tanto specialmente i cinesi. Questa è l'ultima domanda che posso prendere perché il nostro tempo si sta, anzi abbiamo già sforato il tempo, ma questo è proprio il tema del capitolo che io ho, è il capitolo numero quinto, il quinto capitolo del mio libro che è in titolo Occidentalismo, copiare i barbari, perché la nostra cultura affascina i cinesi? Ma prima di tutto perché c'è stato un trauma nella storia della Cina quando improvvisamente sono stati sconfitti e umiliati da potenze occidentali, le guerre dell'oppio, due guerre dell'oppio nell'ottocento, 1839-1860, episodi orribili in cui l'Inghilterra praticava il narcotraffico di Stato, pretese che il mercato cinese si aprisse all'oppio che lei esportava dall'India, dalla sua colonia indiana, ma al tempo stesso la Cina era già in una fase di decadenza profonda, quando perde due guerre contro gli inglesi, poi ci ne sarà una terza, ci sarà la spedizione punitiva contro la rivolta dei boxer, a cui parteciperemo noi italiani, in quell'occasione la Cina verrà castigata da un corpo di spedizione multinazionale dove ci sono inglesi, francesi che saccheggiano il palazzo d'inverno alla periferia di Pechino, un tesoro dell'umanità, pensate che è stato questo saccheggio, è come se fosse state saccheggiate Versailles e molto molto di più, tutto questo induce uno stato di shock nella classe dirigente cinese, le elite cinesi si accorgono di colpo che il loro paese è di una debolezza estrema, che ci sono queste piccole nazioni occidentali che spadroneggiano in casa loro, Hong Kong diventa una colonia inglese, c'era una domanda su Hong Kong a cui ho dimenticato di rispondere. Insomma è da lì cominciato questa ansia di studiare l'Occidente, questi sono i secoli dell'occidentalismo in cui gli asiatici sono in difficoltà, pensano che c'è una modernità in Occidente che va assolutamente studiata, copiata, emulata, trapiantata in casa loro, quelli che ci riusciranno per primi saranno i giapponesi e infatti dal miracolo giapponese dell'Ottocento, che poi sarà di nuovo un altro miracolo dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, tutti si sono ispirati in quell'area, i miracoli dei dragoni del sud-est asiatico, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, sono tutti modellati sull'esempio giapponese e poi verrà la Cina, anche la Cina farà la stessa cosa, si convincerà che deve apprendere tutto ciò che l'Occidente ha prodotto di meglio nella modernità, ma quello che si rifiuta alla Cina di trapiantare è un'idea di sistema democratico, poi anche questo lo spiego, che la Cina non vuole la democrazia occidentale, ma si è data un sistema che viene dal comunismo, che ha un'ideologia europea. Karl Marx era tedesco, Lenin era un russo bianco europeo e la loro influenza c'è tuttora, perché quando Xi Jinping si definisce comunista non lo fa per caso, lo fa perché il primato del partito comunista rimane essenziale e su questo posso concludere, su Hong Kong è terribile quello che sta accadendo a Hong Kong, la Cina sta distruggendo l'ultima autonomia di Hong Kong, cioè lo Stato di diritto, sta imponendo a Hong Kong il suo Stato di polizia, le sue leggi di sicurezza, libertà, decide e purtroppo è la prova che Xi Jinping non ha paura certamente di noi, non pensa che l'Occidente sia troppo debole per reagire, calpesta degli impegni che la Cina aveva preso nel 1997 quando il Regno Unito trasferì l'ex colonia alla Cina, ma in cambio Deng Xiaoping aveva promesso che avrebbe mantenuto l'autonomia, questa identità molto speciale che aveva fatto di Hong Kong una città diversa da Shanghai, Shenzhen, Guangzhou o Pechino. Vi chiedo scusa se mi sono un po' dilungato, spero che avremo altre occasioni, spero soprattutto un giorno non lontano di poter tornare a Torino e vedervi in carne ed ossa e poi magari ci sono tanti che si sono collegati da altre città d'Italia e io spero di andarvi a trovare, a salutare tutti non appena sarà possibile viaggiare. Grazie di aver seguito questa presentazione di Oriente e Occidente, il mio nuovo libro edito da Einaudi. Buona serata, buonanotte a tutti, qua sono solo le 3 del pomeriggio, 15 e 54 ora locale di New York. Arrivederci. Grazie a tutti.